Buongiorno e benvenuti nel mio spazio informativo. Stamani mi sono alzato di buon mattino per venire in questo spazio naturale per immergermi in una seduta di attività di respirazione. Perché respirazione? E respirazione sarà l'argomento di questa puntata. Parlerò infatti di qual è la connessione tra l'efficienza respiratoria e quegli stati nei quali si manifesta stanchezza cronica piuttosto che malessere, piuttosto che ansia e tutte le conseguenze del caso. Innanzitutto cos'è la respirazione? La respirazione è un atto fisiologico che permette di incamerare, quindi introdurre gas dall'esterno all'interno del corpo e nello stesso momento di evacuare, quindi espellere, gas dall'interno del corpo verso l'esterno. In quali gas principalmente si parla di ossigeno ed anidride carbonica. Quindi con l'inspirazione si va a introdurre una certa quantità di ossigeno nel corpo, con l'espirazione si va ad espellere una certa quantità di anidride carbonica dal corpo. Tutto questo avviene, a propria insaputa, ad ogni atto respiratorio. Tutto semplice ma c'è un però. Nel però sta dove? Sta nel fatto che la respirazione, così come madre natura l'ha tra virgolette progettata, dovrebbe avvenire nel miglior modo possibile, ovvero in modo efficiente. Cosa significa efficiente? Significa che ad ogni atto respiratorio dovrebbe venire incamerata la massima quantità di ossigeno e evacuata la massima quantità di anidride carbonica in funzione di cosa? In funzione di quello che si sta facendo in quel momento. Se si è seduti a tavola ovviamente gli scambi gassosi saranno di una certa intensità. Se si sta camminando, se si sta correndo, camminando su un sentiero di montagna, ovviamente la quantità di gas interscambiati ovviamente aumenterà. Non è un caso se, quando stiamo facendo dello sforzo fisico, aumenta il battito cardiaco, aumenta quella sensazione che si ha di fiatone. L'altro non è che un tentativo del corpo di accelerare ed aumentare la quantità di gas scambiati in funzione di quella che è la richiesta organica dei gas stessi. Dov'è che sta l'inghippo? L'inghippo sta che la respirazione, come abbiamo detto, dovrebbe avvenire sempre nella massima sua efficienza in funzione di quella che è la fisiologia del corpo umano. Ma a proprio insaputa, torniamo al concetto di proprio insaputa, tante volte l'atto respiratorio viene turbato, modificato, da quella che è il proprio stato, tra virgolette, emotivo. Si immagini ad esempio cosa avviene alla propria respirazione quando ci si trova di punti in bianco di fronte ad una situazione di pericolo, a una situazione nel quale ci spaventiamo, a una situazione nel quale proviamo timore o altro. L'espirazione di solito va in blocco in quel momento, si trattiene il fiato, pronti ad agire, a fare qualcosa. Ecco, già lì si parla di un blocco respiratorio, quindi un attimo nel quale viene trattenuto il respiro. Ecco, se questa situazione, anziché essere così allarmanti da provocare un blocco respiratorio, è tra virgolette un po' borderline, è quasi impercettibile, sa di fatto che non si arriva a una esasperazione dell'alterazione del sistema respiratorio, ma a una modifica, tante volte quasi impercettibile, che però ha una sua valenza in funzione dei gas che vengono poi interscambiati o meno. Cosa significa tutto questo? Torniamo un attimo alla fisiologia della respirazione. Ogni qualvolta noi incameriamo ossigeno, in contemporanea espelliamo, quindi evacuiamo, anidride carbonica. Tutto questo, come abbiamo detto, avviene con ogni atto respiratorio. Ebbene, senza entrare in termini troppo tecnici, diciamo che spesso e volentieri non tutta l'anidride carbonica si riesce ad evacuarla. Ne resta sempre un pochina, tra chi si chiama volume residuo. Non me ne vogliono i colleghi se non uso termini troppo tecnici, lo faccio per semplificare le cose. Questo volume residuo, sommandosi ad ogni atto respiratorio, fa in maniera che, tra virgolette, la quantità di gas che si va a interscambiare, ovviamente viene sempre meno. Immaginiamo di avere una botte, un contenitore, nel quale dobbiamo introdurre una certa quantità di ossigeno ed espellere l'aria che in quel momento è dentro. Se non riesco a togliere tutta l'aria che c'è dentro a quel contenitore, non riuscirò a riempirlo della quantità di ossigeno prevista. Ecco, questo è quello che succede quando il volume residuo tende a essere in misura importante. E perché succede questo? Perché una modificazione del proprio modo di respirare non fa altro che modificare, scusate il gioco di parole, la quantità di aria che riusciamo ad espellere. Non è un caso se chi ha respiro corto, respiro ansioso, respiro affannoso, respiro frenetico, va a modificare non tanto, anche se c'è comunque la quantità di ossigeno che riesce a introdurre, ma tanto quanto quella che riesce a espellere. Cioè è buttare fuori l'aria che viene altamente modificato. Questo di conseguenza provoca che al successivo atto respiratorio, essendoci meno spazio nel contenitore, entrerà meno ossigeno, ci sarà meno capacità di introdurre ossigeno. Tutto questo cosa significa? Significa che poi nel tempo, arrivando meno ossigeno ad ogni atto respiratorio, ai tessuti, in primis a quella parte del nostro cervello che viene definita corteccia prefrontale, viene a mancare una parte di carburante, di benzina. Tutto questo, moltiplichiamolo per ogni minuto, secondo minuto, ora della nostra quotidianità, tutto questo cosa va a modificare? Va a modificare che in primis i tessuti verranno irrorati da una minore quantità di ossigeno. In secondo luogo ci sarà un volume residuo sempre maggiore di anidride carbonica. Terzo, le cellule riceveranno minor nutrienti ad ogni atto respiratorio e di conseguenza con tutta la circolazione sanguigna. Gli effetti di tutta questa supercazzola saranno che la percezione, ovvero il sintomo di ciò che si sente sarà stanchezza. Perché stanchezza? Perché minore ossigeno arriva ai tessuti, questi maggior lavoro dovranno fare per far sì che noi possiamo interagire con l'ambiente nel quale siamo immersi, quindi le nostre faccende quotidiane. Ovvero, è come se noi dovessimo impiegare il doppio dell'energia per compiere la stessa cosa che potremmo fare con una quantità di energia molto molto minore. anche semplicemente stare davanti al pc o avere dei rapporti sociali, lavorativi e via dicendo. Tutto questo, come abbiamo detto, provoca stanchezza, provoca stanchezza cronica, quindi stanchezza prolungata nel tempo che sembra quasi non risolversi mai, provoca alterazione dello stato emotivo, provoca una percezione alterata di quello che è tante volte la realtà, dato che la corteccia prefrontale comincia a entrare in uno stato disfunzionale. Attenzione, non confondiamo con schizofrenia, pazzia, via dicendo. Stiamo dicendo che la percezione della realtà viene leggermente alterata. Questo esempio paradossalmente lo potremmo estremizzare pensando cosa succederebbe in una situazione di grave pericolo? Pensiamo a una cosa veramente drammatica nella quale si deve prendere una decisione all'immediato piuttosto che dove scappare, agire, fare qualcosa, salvare qualcuno. Ecco, in quelle situazioni, se la corteccia prefrontale non è adeguatamente ossigenata, quindi non arriva ossigeno in modo adeguato tramite l'efficienza respiratoria, la capacità di agire, di prendere decisioni in modo razionale viene alterata. Questa è una cosa, ad esempio, che sanno molto bene le forze speciali, dove lavorano veramente in situazioni off-limits e in quelle situazioni la prima cosa che devono imparare a fare è mantenere un certo stato di efficienza respiratoria. Noi non siamo in quella situazione, viviamo la vita di tutti i giorni, ma troppo spesso, purtroppo, mi trovo a avere a che fare con persone affette da stanchezza cronica, problemi legati alla frenesia di tutti i giorni, all'ansia provocata dal lavoro e via dicendo. Tutto questo è controllabile e risolvibile con un adeguato lavoro di respirazione. Le conseguenze, purtroppo, altrimenti, nel lungo termine cominciano a drammatizzarsi, non solo con, quindi, quello stato di stanchezza, ma poi con i classici mal di testa inspiegabili, piuttosto che con alterazione, poi, dello stato fisiologico, quindi acidosi cellulare, alterazione del ritmo circadiano, queste cose le ho già spiegate tante volte in altri video, e tutte le conseguenze sul piano, non solo della sensazione di stanchezza, ma poi anche sul piano fisico, piuttosto che sul piano psico-emotivo. Tutto questo, ovviamente, fa parte un po' di quello che è il pacchetto del stile di vita delle società occidentalizzate, e da tutto questo, ovviamente, dobbiamo imparare a difenderci e con gli strumenti che abbiamo ad aiutare il nostro organismo a sopravvivere a questa situazione. Se cent'anni fa non avevano i problemi che abbiamo adesso legati a sarcopenia, osteopenia, dinapenia, quindi a problemi di tipo fisico, ma avevano sicuramente altri problemi, noi, in questa situazione, dobbiamo, oltre a dinapenia e sarcopenia, dobbiamo adeguarci a sopravvivere in un ambiente che non è drammaticamente rurale, come quello dei nostri nonni e bisnonni, ma è drammaticamente stressante, frenetico e ansioso, stimolante. Tutto questo, a fronte di tutto questo, dobbiamo imparare a gestire quella che è la propria respirazione. Una delle cose che possiamo fare, ad esempio, come ho fatto stamattina, immergersi in un ambiente naturale e camminando, io ho fatto poi anche dell'attivazione di tipo HIT, ma la prima cosa che viene spontanea a fare è camminare e fare dell'esercizio di respirazione, io uso una tecnica di respirazione guidata che mi dà sicuramente l'input ad affrontare la mia quotidianità e a fronte di tutto questo mi resta che augurarvi una buona giornata.